Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti I De Mita in campo ieri al Palapartenope di Napoli per lanciare l'idea del nuovo soggetto da proporre alle elezioni politiche della prossima primavera. Molto originale, come tutte le sintesi lessicali del De Mita Junior Pensiero, il titolo dell'iniziativa da lui promossa. Eccolo, l'Italia è popolare, una nuova voce per chi non ha più voce. Di tutta evidenza è un messaggio carico di pathos politico, che però qualcuno in sala ha interpretato in senso ironicamente patologico ed ha mormorato un consiglio parafrasando la popolarissima, altro che popolare, canzone di Renato Carosone. Giusè non tiene voce? Pigliate una pastiglia da me.